Io mi chiamo Luca Triacca e faccio parte dell'azienda Casa Vinicola Triacca. Nell'azienda il mio ruolo è la produzione cantina e vigna, del gruppo dell'azienda che abbiamo in Voltellina e in Toscana. Il vino che ho portato è un po' la nostra etichetta madre, che è il Madonnina Riserva. Per il Madonnina Riserva, che fatto di volume è il più voluminoso, abbiamo dedicato circa 40-45 ettari di vigneto. Questo vino qua è un po' la nostra creazione, il quale va bene per tutti i tipi di, come mi vorrebbe dire, di Toscana, visto che non ha prezzi folli e nello stesso tempo però ha una qualità di alto livello. Ma cosa provo? Provo un sacco di emozioni, insomma, anche per chi ha le emozioni è in base alla stagione, quando giri, chi le provi. Ora d'inverno, per esempio, vedi lì questi tralci, tutti spogli, e ti viene da... ma poi racci, guarda lì come sono stati ridotti, poi vedi verso aprile, maggio, come rifiorescono, e lì ci sono dei profumi inconfondibili per uno che frequenta spesso i vigneti.